Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega, Tommaso Corvisiero, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi e Costantino Indelicato. La Contessa di Cagliostro di Maurice Leblanc Lettura di Libri in Pillole Illustrazione di Lorenzo Bisogni Tema musicale di Paolo Cotrone Capitolo VII Le Delizie di Capua La Nonchalante era una chiatta simile a tutte le altre, piuttosto vecchia, dalla vernice sbiadita ma ben lucidata e ben tenuta da una coppia di marinai che si chiamavano signore e signora de l'Atre. Dall'esterno non si vedeva granché di quel che poteva trasportare la Nonchalante, alcune casse, vecchi cesti, botti, ecco tutto. Ma se ci si introduceva sotto il ponte, con l'aiuto di una scaletta, era facile appurare che non trasportava assolutamente nulla. Tutto l'interno era diviso in tre piccole stanze, comode e splendenti. Due cabine separate da un salotto. Fu lì che Raoul e Josephine Balsamot vissero per un mese. I coniugi dell'Atre, personaggi muti e stizzosi, con cui parecchie volte Raoul tentò in vano di attaccare discorso, si occupavano delle pulizie e della cucina. Di tanto in tanto, un piccolo rimorchiatore arrivava a prendere la Nonchalante e le faceva risalire un tratto della senna. Tutta la storia dell'idillio si svolgeva così in deliziosi paesaggi dove andavano a passeggiare tenendosi per la vita. Settimane d'intensa felicità, Raoul vi spese tesori di gaiezza e di entusiasmo, gli spettacoli meravigliosi, le belle chiese gotiche, i tramonti e i chiari di luna, tutto era pretesto per dichiarazioni appassionate. Josine, più silenziosa, sorrideva come in un sogno felice. Ogni giorno l'avvicinava di più al suo amante. Se dapprima aveva obbedito a un capriccio, ora subiva la legge di un amore che le faceva battere il cuore e le insegnava la sofferenza di amare troppo. Del passato, della sua vita segreta, mai una parola. Una volta, tuttavia, si scambiarono delle frasi a questo proposito, poiché Raoul la canzonava su ciò che lei chiamava il miracolo della sua eterna giovinezza, rispose Un miracolo è ciò che non si comprende. Per esempio, abbiamo percorso venti leghe in un giorno e hai gridato al miracolo. Con un po' di attenzione, però, ti saresti reso conto che la distanza è stata coperta non da due, ma da quattro cavalli, poiché Leonard aveva sostituito gli animali a due vie nel cortile della fattoria, dove era predisposto un cambio. Bel colpo! Esclamò il giovinotto, estasiato. Altro esempio. Nessuno sa che ti chiami Lupin. Ora ti dirò che la notte stessa in cui mi hai salvato dalla morte ti conoscevo sotto il tuo vero nome. Miracolo? Nemmeno per sogno. Capisci bene che tutto ciò che riguarda il conte di Cagliostro mi interessa e quattordici anni fa, quando ho sentito parlare della scomparsa della collana della regina a casa della contessa Dressoubise, ho fatto un'indagine minuziosa che mi ha permesso dapprima di risalire al giovane Raoul d'Andrésy e poi al giovane Lupin, figlio di Théopraste Lupin. Più tardi ritrovai la tua traccia in parecchie imprese. Ero convinta. Raoul riflette per alcuni secondi, poi disse molto seriamente. A quell'epoca, mia Josin, o tu avevi una dozzina d'anni ed è prodigioso che una bambina di quell'età risolva un'inchiesta dove tutti fallirono, oppure avevi la stessa età che hai oggi, il che è ancora più prodigioso, o figlia di Cagliostro. Lei aggrottò le sopracciglia. La battuta sembrava non piacerle. Non parliamo mai di questo, vuoi, Raoul? Peccato, disse Raoul un po' seccato, di essere stato scoperto come Arsène Lupin e desiderando una rivincita. Niente mi appassiona più del problema della tua età e delle tue prodezze da un secolo. A riguardo a questo ho alcune idee personali che non mancano di interesse. Lei lo osservò curiosa, malgrado tutto. Raoul approfittò della sua esitazione e riprese subito con tono leggermente beffardo. La mia argomentazione si fonda su due assiomi. Primo, come hai detto, non c'è miracolo. Secondo, sei la figlia di tua madre. Lei sorrise. Inizia bene. Sei la figlia di tua madre, ripetì Raoul. Il che significa che all'inizio c'è stata una contessa di Cagliostro. A venticinque o trent'anni Costei abbagliò con la sua bellezza la Parigi della fine del Secondo Impero e incuriosì la corte di Napoleone III. Con l'aiuto del sedicente fratello che la accompagnava, fratello, amico, amante, non importa, aveva ordito tutta la storia della filiazione di Cagliostro e preparato i documenti falsi di cui si servì la polizia per informare Napoleone III sulla figlia di Josephine de Bournée e di Cagliostro. Espulsa andò in Italia, in Germania, poi scomparve per resuscitare ventiquattro anni dopo sotto gli stessi tratti della sua adorabile figlia, seconda contessa di Cagliostro qui presente. Siamo d'accordo? Josin non rispose, impassibile. Lui proseguì. Tra la madre e la figlia, perfetta somiglianza, così perfetta che l'avventura ricomincia con la massima naturalezza, perché due contesse? Ce ne sarà una sola, l'unica, la vera, quella che ha ereditato i segreti di suo padre Giuseppe Balsamo, contè di Cagliostro. E quando Beaumagnan fa le sue indagini, inevitabilmente ritrova i documenti che hanno già messo fuori strada la polizia di Napoleone e la serie di ritratti e miniature che attestano l'unicità della donna sempre giovane e fanno risalire la sua origine fino alla vergine di Bernardino Luini, alla quale il caso l'ha fatta così stranamente somigliare. Del resto vi è un testimone, il principe di Arcol. Il principe di Arcol ha visto una volta la contessa di Cagliostro, l'ha accompagnata a Modane, la rivede a Versailles. Quando la scorge, un grido gli sfugge. È lei, è dalla stessa età! A questo punto lo subissi di prove. Gli ripeti le poche parole scambiate a Modane tra lui e tua madre, racconto che hai letto nel diario molto minuzioso che tua madre teneva delle sue minime azioni. Ecco il retroscena dell'avventura, è semplicissimo. Una madre e una figlia che si assomigliano e la cui bellezza evoca un'immagine di Luini. Punto e basta. C'è anche la Marchesa di Belmonte, ma suppongo che la somiglianza di questa signora con te sia piuttosto vaga e che c'è stato bisogno della buona volontà e del cervello squilibrato di Beaumagnan per confondervi tutte e due. Riassumendo, niente di drammatico. Un intrigo divertente e ben condotto. È tutto. Raúl tacque. Gli sembrò che Giusefine Balsamofo si è diventata un po' pallida e che il suo viso si contraesse. Doveva essere irritata a sua volta e questo lo fece ridere. Ho colpito nel segno, vero? Lui disse. Lei si sottrasse. Il mio passato mi appartiene e la mia età non importa a nessuno. Puoi credere quello che ti pare a questo proposito. Si gettò su di lei e la baciò furiosamente. Credo che tu abbia 104 anni, Giusefine Balsamò, e nulla è più delizioso del bacio di una centenaria. Quando penso che hai forse conosciuto Robespierre e forse Luigi XVI. L'incidente non si ripetè. Raúl d'Andresi sentiva così nettamente l'irritazione di Giusefine Balsamò al minimo tentativo indiscreto che non osò più interrogarla. Del resto non conosceva la verità esatta? Certo, la conosceva e nessun dubbio gli rimaneva. Tuttavia la giovane conservava un'aura misteriosa che lui subiva a suo malgrado e di cui provava qualche rancore. Alla fine della terza settimana Leonard ricomparve. Una mattina Raúl avvistò la berlina con i due cavalli sfiancati della contessa che si allontanava. Lei rientrò solo la sera. Leonard trasportò sulla nonchalante dei fagotti legati con degli asciugamani che lasciò scivolare da una botola di cui Raúl ignorava l'esistenza. Quella notte Raúl, dopo essere riuscito ad aprire la botola, ispezionò i fagotti. Contenevano meravigliosi merletti e pietre preziose. Due giorni dopo, nuova spedizione. Risultato, un magnifico arazzo del XVI secolo. In quei giorni Raúl si annoiava molto, così Amant, trovandosi ancora solo, noleggiò una bicicletta e scorrazzò per un po' attraverso la campagna. Dopo aver pranzato, scorse all'uscita di una cittadina una grande casa il cui giardino era pieno di gente. Si avvicinò. Si vendevano all'asta dei magnifici mobili e pezzi di argenteria. Senza sapere perché, fece il giro della casa. Uno dei pignoni si innalzava in una parte deserta del giardino, sopra un boschetto frondoso. Senza sapere con precisione a quale impulso obbedisse, Raúl, vedendo una scala, la appoggiò al muro, salì e scavalcò il davanzale di una finestra aperta. Ci fu un piccolo grido all'interno. Raúl scoprì Josephine Balsamot, che si riprese subito e gli disse con tono naturalissimo «Oh, guarda, è lei, Raúl! Sto ammirando una collezione di libricini rilegati, una meraviglia e di una rarità!» Fu tutto. Raúl esaminò i libri e si mise in tasca tre elzeviri, mentre la contessa, all'insaputa di Raúl, faceva a man bassa delle medaglie di una vetrina. Scesero la scala. Nella confusione della folla, nessuno notò la loro partenza. A trecento metri di distanza, la vettura aspettava. Da allora, a Pontoise, a Saint-Germain, a Parigi, dove la nonchalante, ormeggiata proprio di fronte alla prefettura di polizia, continuava a servire loro di alloggio, operarono insieme. Se il carattere chiuso e l'anima enigmatica della cagliostro non si smentivano nel compiere quei lavori ingrati, la natura spontanea di Raúl riprendeva a poco a poco il sopravvento e ogni volta l'operazione finiva in scoppi di risa. «A questo punto, diceva, poiché ho voltato le spalle al sentiero della virtù, prendiamo le cose allegramente e non in modo funebre, come fai tu, mia Josin. A ogni prova si scopriva qualità impreviste e risorse che ignorava, a volte in un negozio, a teatro, alle corse, la sua compagna sentiva un piccolo schiocco di lingua allegro e allora scorgeva nelle mani dell'amico un orologio, sulla cravatta una nuova spilla e sempre lo stesso sangue freddo, sempre la serenità dell'innocente che nessun pericolo minaccia». Il che non impediva a Raúl di obbedire alle molteplici precauzioni che Josephine Balsamot pretendeva. Non uscivano dalla chiatta che vestiti da proletari. In una strada vicino la vecchia berlina con un solo cavallo li aspettava, in vettura si cambiavano. La cagliostro non abbandonava mai un merletto a larghi fiori ricamati che le serviva da veletta. Tutti questi dettagli e molti altri informavano Raúl sulla vita reale della sua amante. Non dubitava più ormai che fosse il capo di una banda organizzata di complici, con i quali corrispondeva attraverso Leonard e non dubitava neppure che seguisse la faccenda del candeliere a sette bracci e sorvegliasse le manovre di Beaumagnan e dei suoi amici. Esistenza doppia che molto spesso irritava Raúl contro Josephine Balsamot, come lei stessa aveva previsto. Dimenticando i propri atti, non voleva compierne altri che non fossero conformi alle idee che conservava, malgrado tutto, sull'onestà. Un amante ladra e capobanda, questo lo contrariava. Ci furono tra loro degli scontri per questioni futili. Le loro due personalità, così forti e così spiccate, si urtavano. Così, quando un incidente li gettò di colpo in piena battaglia, pur combattendo contro nemici comuni, appresero tutto ciò che un amore come il loro in certi momenti può contenere di rancore, orgoglio e ostilità. L'incidente, che mise fine a quelle che Raúl chiamava le delizie di Capua, fu l'incontro inatteso che fecero una sera con Beaumagnan, il barone de Tighe e Bentot. I tre amici entravano al teatro de Varieté. «Seguiamoli», disse Raúl. La contessa esitava, lui insistette. «Come? Ci si presenta una simile occasione e non ne approfittiamo!» Entrarono entrambi e si sistemarono in un palco buio. In quel momento, in fondo a un altro palco, vicino al palcoscenico, prima che la maschera alzasse la grata, ebbero il tempo di scorgere la figura di Beaumagnan e dei suoi due accoliti. Si presentava un problema. Perché Beaumagnan, uomo di chiesa e di abitudini rigide in apparenza, si perdeva in un teatro dei Boulevard, dove si rappresentava una rivista molto scollacciata e senza alcun interesse per lui? Raúl pose la domanda a Josephine Balsamot, che non rispose, e questa indifferenza affettata mostrò chiaramente a Raúl che, in certi casi, la giovane si separava da lui e che, di sicuro, non voleva la sua collaborazione per tutto ciò che riguardava l'inesplicabile faccenda. «Sta bene», le disse con un tono netto che sapeva di sfida. «Sta bene. Ognuno per la sua strada e ognuno per sé. Vedremo chi si aggiudicherà il primo premio». Sulla scena, file di donnine alzavano le gambe a ritmo, mentre sfilavano le attualità. La presentatrice, una bella ragazza poco vestita che impersonava la cascatrice, giustificava il soprannome con cascate di gioielli falsi che le sfavillavano tutti intorno. Un diadema di pietre colorate le cingeva la fronte, lampadine elettriche si accendevano nei capelli. Furono recitati due atti. Il palco di proscenio manteneva le tendine ermeticamente chiuse, sicché era impossibile percepire la presenza dei tre amici. Ma durante l'ultimo intervallo, passando davanti al palco, Raúl notò che la porta era socchiusa. Guardò. Nessuno. Essendosi informato, seppe che i tre signori avevano lasciato il teatro dopo mezz'ora. «Più niente da fare qui». Disse raggiungendo la contessa. «Hanno preso il largo». In quel momento si alzava di nuovo il sipario. La presentatrice comparve di nuovo sulla scena. La pettinatura più semplice, permise di vedere meglio il diadema che portava sulla fronte dall'inizio, era un nastro di tessuto dorato, dove erano fissate grosse pietre di colore diverso. Ce n'erano sette. «Sette», pensò Raúl. «Questo spiega la presenza di Beaumagnan». Mentre Josephine Balsamo si preparava, seppe da una maschera che la presentatrice della rivista, Brigitte Rousselin, abitava in una vecchia casa di Montmartre, da cui ogni mattina, con una vecchia cameriera molto devota, che si chiamava Valentin, scendeva per partecipare alle prove della prossima pièce. L'indomani mattina, alle undici, Raúl lasciava la nonchalante. Pranzava in un ristorante di Montmartre e, a mezzogiorno, imboccando una viuzza ripida e tortuosa, passava davanti a una casetta angusta, preceduta da un cortile chiuso da un muro e appoggiata a un altro edificio in affitto, il cui ultimo piano, le finestre senza tende bastavano a indicarlo, non era abitato. Con l'abituale rapidità di ideazione, Raúl costruì subito uno di quei piani che eseguiva poi quasi meccanicamente. Passeggiò in lungo e in largo, come un uomo che ha un appuntamento. A un tratto, vedendo che la portinaia dell'immobile spazzava in marciapiede, scivolò dietro quella donna, fece di corsa le scale, sfondò la porta dell'appartamento vuoto, aprì sul lato una finestra che dominava il tetto della casa vicina, si assicurò che nessuno potesse vederlo e saltò. Vicinissimo, un lucernario era socchiuso. Si lasciò cadere in un solaio ingombro di oggetti inutilizzati e da cui si scendeva solo attraverso una botola, che funzionava male e che poté sollevare giusto per far passare la testa. Da lì dominava il pianerottolo del secondo piano e in parte la tromba delle scale. Non c'era una scala. Di sotto, ossia al primo piano, due voci di donna scambiavano qualche parola. Chinandosi il più possibile, Raul ascoltò e si rese conto che la giovane attrice stava pranzando nel suo salottino e che la sua compagna, unica domestica della casa, metteva in ordine la camera da letto e la tua eletta mentre la serviva. «Ho finito», esclamò Brigitte Rousselin, tornando in camera sua. «Ah, mia cara Valentin, che gioia! Niente prove oggi! Tornò a letto fino all'ora di uscire!» Quella giornata di riposo disturbava un po' i calcoli di Raul, che sperava, durante l'assenza di Brigitte Rousselin, di fare tranquillamente una visita domiciliare. Pazientò, tuttavia, contando sul caso. Passarono alcuni minuti. Brigitte fischiettava arie della rivista quando un campanello risuonò nel cortile. «Strano», disse. «Oggi non aspetto nessuno. Corri a vedere, Valentin!» La domestica ascese, si udì lo sbattere della porta richiusa e la donna risalì dicendo «È dal teatro! Un segretario del direttore che ha portato questa lettera!» «Dammela! L'hai fatto entrare in salotto?» «Sì!» Raul intravedeva al primo piano la gonna della giovane attrice. La domestica tese la busta che fu subito aperta e Brigitte la lesse a mezza voce. «Mia cara Rousselin, affidi al mio segretario il diadema di pietre che mette sulla fronte! Ne ho bisogno per far copiare il modello e, urgente, lo ritroverà stasera a teatro!» Nell'udire quelle frasi Raul trasalì. «Oh, guarda, guarda!» pensava. «Il diadema di pietre! Sette pietre! Anche il direttore è sulla pista? E Brigitte Rousselin obbedirà?» Fu rassicurato, la giovane mormorava. «Non è possibile! Ho già promesso quelle pietre!» «È una bella noia!» osservò la domestica. «Il direttore non sarà contento!» «Che vuoi, ho promesso! E poi mi pagheranno molto bene! Allora a che rispondere?» «Gli scriverò!» Tornò nel salottino e un istante dopo consegnava una busta alla domestica. «Lo conosci quel segretario? L'hai visto a teatro?» «No, è uno nuovo!» «Che dica al direttore che sono spiacente e che spiegherò la cosa stasera!» Valentin uscì. Di nuovo passarono parecchi minuti. Brigitte si era messa al piano e faceva degli esercizi di canto che coprirono forse il rumore della porta principale, perché Raul non lo sentì. La parte sua provava un certo fastidio, turbato dall'incidente che non gli sembrava chiarissimo. Quel segretario che nessuno conosceva, quella richiesta di gioielli, tutto sapeva di tranello e lo scoespediente. Tuttavia, si rassicurò, un'ombra aveva superato la tenda dirigendosi verso il salottino. «È Valentin che ritorna!» si disse Raul. «La mia impressione era falsa, l'uomo se n'è andato!» Ma a un tratto, a metà ritornello, il piano si fermò. Lo sgavello sul quale era seduta la cantante fu spinto bruscamente e cadde. E lei esclamò con una certa inquietudine. «Chi è lei? Ah, il segretario, non è vero? Il nuovo segretario? Ma insomma, che vuole, signore?» «Il signor direttore?» rispose la voce dell'uomo. «Mi ha ordinato di portargli i gioielli! Devo insistere!» «Ma, ma gli ho risposto!» balbettò Brigitte sempre più ansiosa. «La mia cameriera deve avergli consegnato la lettera! Perché non è salita con lei? Valentin!» Chiamò parecchie volte, disperata. «Valentin! Ah, mi fa paura, signore! I suoi occhi!» La porta fu chiusa brutalmente. Raul percepì un rumore di sedie, il fracasso di una lotta, poi un forte grido. «Aiuto!» Fu tutto. Nel resto, nel preciso istante in cui aveva avuto l'intuizione del pericolo che correva Brigitte Rousselin, si era forzato di sollevare un po' di più la botola e di aprirsi un passaggio. Dovette perciò perdere del tempo prezioso. Dopodiché si lasciò cadere, si precipitò dal secondo piano e si trovò di fronte a tre porte chiuse. A caso si scagliò contro una di esse e penetrò in una stanza in cui c'era il più grande disordine. Non vedendo nessuno, corse attraverso la stanza alla toiletta, poi fino alla camera dove pensava che la lotta fosse continuata. Subito, infatti, vide nella penombra, perché le cortine della finestra erano quasi interamente chiuse, un uomo in ginocchio, estesa sul tappeto una donna che quell'uomo teneva alla gola con le due mani. Rantoli di sofferenza si mischiavano ad abominevoli imprecazioni. «Porca miseria! tacerai! Mi rifiuti gioielli! È bene, piccola mia!» L'attacco di Raúl, che si gettò su di lui con una violenza irresistibile, gli fece lasciare la presa. Entrambi rotolarono contro il caminetto, dove Raúl urtò la fronte abbastanza forte da provarne alcuni attimi di cedimento. L'assassino del resto era più pesante di lui e il duello non poteva durare a lungo tra quel sottile adolescente e quell'uomo che si indovinava massiccio e di muscolatura possente. Difatti, dopo un istante uno dei due si staccò, mentre l'altro rimaneva steso ed emetteva deboli sospiri. Chi si rialzava però era Raúl. «Un bel colpo, vero, signore?» Soghignò. «Mi viene dalle istruzioni postume di un signor Teofraste Lupin, capitolo sugli stili giapponesi. La spedisce in un istante in un mondo migliore e la rende inoffensivo come un agnello». Si chinò sulla giovane attrice e, presa la imbraccio, la stese sul letto. Vide subito che la tremenda stretta dell'assassino non aveva avuto le conseguenze che si potevano temere. Brigitte Rousselin respirava ancora. Nessuna ferita era visibile, ma tremava in tutte le membra e guardava con occhi da pazza. «Non soffre, signorina», disse lui dolcemente. «No, vero, non sarà niente. E soprattutto non abbia paura. Non ha più nulla da temere. E, per maggior sicurezza, scostò in fretta le tende, ne strappò i cordoni e legò i pugni inerti dell'uomo. Quando entrò un po' di luce nella camera, voltò l'assassino verso la finestra per esaminarne il volto. Gli sfuggì un grido. Era confuso. Mormorò con stupore. «Leonard? Leonard!» Non aveva mai avuto occasione di vedere bene in faccia quell'uomo, in genere curvo, a cassetta della carrozza. Nascondendo la testa tra le spalle, dissimulando la statura al punto che Raúl lo credeva quasi gobbo e mingerlino, ma conosceva il suo profilo ossuto, allungato da una barba brizzolata, e non ebbe il minimo dubbio. Era Leonard, il factotum e braccio destro di Josephine Balsamot. Finì di legarlo, lo bendò saldamente, gli avvolse la testa con un asciugamano e lo trascinò nel salottino, dove l'attaccò ai piedi di un pesante divano. Poi tornò verso la giovane donna che continuava a gemere. «È finita», disse. «Non lo vedrà più. Si riposi. Vado a occuparmi della sua cameriera per sapere che ne è stato». Da questo lato non era inquieto e, come supponeva, scoprì Valentina Pianterreno in un angolo della sala, esattamente nelle stesse condizioni in cui aveva lasciato Leonard, cioè ridotta all'impotenza e al silenzio. Era una donna di polso. Una volta liberata e, sapendo il suo aggressore incapace di nuocere, non perse la testa e si adeguò agli ordini di Raúl, che le diceva «Sono un agente dei servizi segreti. Ho salvato la sua padrona. Vada a raggiungerla e la curi. Io interrogerò quell'uomo per rendermi conto se non ha dei complici». Raúl la spinse sulle scale, ansioso di rimanere solo e riflettere sulle idee confuse che lo assillavano. Idee così penose che, di tanto in tanto, cercava quasi di sottrarvisi, e che se avesse ascoltato, lasciando al caso la cura di sbrogliare la situazione, avrebbe abbandonato il campo di battaglia e sarebbe fuggito attraverso la casa vicina. Ma una visione troppo chiara delle cose che occorreva fare si stabiliva in lui perché non dovesse obbedire. Tutta la sua volontà crescente di capo, che sa decidersi e mantenere il sangue freddo nelle circostanze più tragiche, lo costringeva all'azione. Attraversò il cortile e, con un gesto lentissimo, maneggiò la serratura della porta principale che poté così socchiudere leggermente. Dalla fessura azzardò un'occhiata. Dall'altro lato della strada, un po' più in giù, stazionava la vecchia berlina. A cassetta, un domestico giovanissimo che aveva visto parecchie volte con Leonare, che si chiamava Dominique, badava al cavallo. Ma all'interno della vettura non c'era forse un altro complice? E chi era il complice? Raul non richiuse la porta. I suoi sospetti si confermavano e ora più niente al mondo gli avrebbe impedito di andare fino in fondo. Risalì quindi al primo piano e si chinò sul prigioniero. Un particolare l'aveva colpito durante la lotta. Un grosso fischietto di legno appeso a una catenina era uscito da una tasca di Leonare, ma questi, nonostante il pericolo, l'aveva ripreso con un gesto meccanico, come se avesse temuto di perdere lo strumento. E la questione si poneva così nella mente di Raul. Il fischietto doveva servire in caso di pericolo per allontanare il complice? Oppure, al contrario, era un segnale per chiamare il complice quando il lavoro sarebbe stato fatto. Raul optò per quest'ipotesi, forse più per intuizione che ragionamento. Aprì dunque la finestra giusto il tempo necessario per suonare il fischietto e, appostato dietro le tende di tulle, attese. Il cuore gli balzava nel petto. Non aveva mai fino ad allora sofferto di quell'aspra e brutta sofferenza. In fondo non dubitava di ciò che stava per accadere e conosceva la figura che stava per apparire nel vano della porta. Ma voleva sperare, comunque, contro l'evidenza. Non ammetteva, non riusciva ad ammettere che in quell'oscura faccenda l'assassino Leonard avesse come complice. Il pesante battente fu spinto. Sospirò Raul con disperazione. Giusefin Balsamo entrava. Entrò tranquillamente, con tanta disinvoltura che sembrava stesse facendo visita a un'amica. Dall'istante in cui Leonard aveva fischiato, la strada era libera e lei doveva solo presentarsi. Avvolta nella veletta, attraversò il cortile e penetrò in casa. Di colpo Raul aveva recuperato tutta la sua tranquillità. Il suo cuore si calmò. Era pronto a combattere il secondo avversario come aveva combattuto il primo, con armi diverse ma altrettanto efficaci. Chiamò Valentina a mezza voce e le disse «Qualunque cosa accada, non una parola. Contro Brigitte Rousselin c'è un complotto che voglio smascherare. Ecco uno dei complici. Silenzio assoluto, vero?». La domestica propose «Posso aiutare, signore, correre dal commissario?». «A nessun costo. La faccenda, se fosse nota, potrebbe finire male per la sua padrona. Rispondo di tutto, a condizione però che in questa stanza non si faccia alcun rumore. Alcuno». «Bene, signore». Raul chiuse le due porte di comunicazione. Così la camera dove si trovava Brigitte Rousselin e quella in cui si sarebbe giocata la partita tra Josephine e lui erano completamente separate. Come desiderava, nessun rumore poteva passare dall'una all'altra. In quel momento Josephine Balsamot sbucava dal pianerottolo. Lo vide. E riconobbe dai vestiti il corpo legato di Leonard. Raul ebbe all'improvviso la nozione esatta del dominio che Josephine Balsamot poteva avere su se stessa in certi momenti gravi. Lungi dallo spaventarsi notando la presenza inattesa di Raul e il disordine di una stanza in cui Leonard era prigioniero, lei cominciò a riflettere, dominando i suoi nervi di donna e l'agitazione che la scuoteva. Era facile capire cosa si domandava. «Cosa significa tutto ciò? Che ci fa qui Raul? Chi ha legato Leonard?». Alla fine, sollevando la veletta, chiese semplicemente, poiché era certamente quello che la tormentava di più, «perché mi guardi così, Raul?». Lui ci mise un po' di tempo a rispondere. Le parole che stava per pronunciare erano terribili e la fissava per non perdere un solo sussulto dei suoi muscoli né un solo battito di ciglia. Mormorò «Brigitte Ruslan è stata assassinata». «Brigitte Ruslan?» «Sì, l'attrice di ieri sera, quella del diadema di pietre preziose. E non oserai dire che non sai chi è quella donna, perché sei qui, in casa sua, e hai incaricato Leonard di avvertirti appena fatto il lavoro». Lei sembrò sconvolta. «Leonard? Sarebbe Leonard?» «Sì, è lui che ha ucciso Brigitte. L'ho sorpreso che le stringeva il collo con le mani». La vide tremare e lei cadde a sedere balbettando. «Ah, miserabile! Miserabile! È possibile che abbia fatto questo?» E ancora più sottovoce, con uno spavento che cresceva ogni parola. «Ha ucciso! Ha ucciso! È possibile! Mi aveva tuttavia giurato che non avrebbe mai ucciso! Me l'aveva giurato! Oh, non ci posso credere!» Era sincera o recitava una commedia? Leonardo aveva agito a causa di una follia improvvisa o secondo istruzioni che gli ordinava il delitto quando l'astuzia falliva? Domande terribili che Raul si faceva senza poter rispondere. Josephine Balsamore rialzò il capo, osservò Raul con gli occhi pieni di lacrime e poi improvvisamente si gettò verso di lui con le mani giunte. «Raul! Raul, perché mi guardi così? No, no, non è vero! Tu mi accusi! Ah, sarebbe terribile! Potresti credere che sapessi che abbia ordinato o permesso questo delitto abominevole! No, giurami che tu non ci credi! Oh, Raul! Raul mio!» Un po' brutalmente lui la costrinse a sedersi. Poi spinse Leonard nell'ombra e dopo aver fatto qualche passo in lungo e in largo ritornò verso la cagliostro e la prese per una spalla. «Ascoltami, Josephine!» scandì lentamente con una voce che era quella di un accusatore e anche di un avversario, molto più di quella di un amante. «Ascoltami, se tra mezz'ora non avrai fatto piena luce su questa faccenda e le macchinazioni segrete che la complicano, mi comporterò con te come contro una nemica mortale. Con le buone o con le cattive ti allontanerò da questa casa e senza la minima esitazione denuncerò al più vicino commissariato di polizia il delitto che il tuo complice Leonard ha commesso sulla persona di Brigitte Ruslan. Dopodiché ti arraggerai. Vuoi parlare?